Cura la diverticolite naturalmente Erbe incredibili che curano completamente la diverticolite Rimedi naturali molto efficaci per curare la diverticolite a casa Nessuna necessità di antibiotici, nessuna necessità di chirurgia Scopri come rimuovere i rifiuti alimentari irritanti dell'intestino Piano nutrizionale calmante dell'intestino Supplementi di guarigione dell'intestino Un sollievo completo dal dolore diverticolite in pochi giorni La guida completa è più completa sul trattamento e il controllo della diverticolite e della diverticolosi Visita Rimedi Naturali.diverticolite.info per ottenere la guida che aiuta a curare completamente la diverticolite in pochi giorni con rimedi naturali e domestici molto efficaci Fai clic sull'incrime di naturale.diverticolite.info sotto nella descrizione per ottenere subito la guida